Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Restate con noi, questa è una puntata davvero incredibile per questo mese di novembre, abbiamo delle offerte pazzesche, sia che state cercando un'autovittura nuova, sia che state cercando un'autovittura d'occasione aziendali e chilometri zero, quindi le offerte sono veramente imperdibili per questo mese di novembre qui da noi all'Autofrancia. Ma andiamo con ordine, come vedete siamo negli showroom delle autovitture nuove di gamma Fiat Alfa Lancia Jeep che Autofrancia vi propone in pronta consegna, venite qui di fianco a me la 500X nuovissima, alle mie spalle il Jeep Compass, quindi come detto tutta la gamma in pronta consegna, questo mese sconti rotamazione, supervalutazione del vostro usato, arriviamo a sconti fino a 7.000 euro sulle autovitture nuove, quindi sconti veramente pazzeschi. Lo scontro rotamazione Autofrancia questo mese ve lo fa anche sulle autovitture d'occasione aziendali chilometri zero, fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare, quindi veramente un novembre da non perdere, le occasioni strepitose qui da noi all'Autofrancia. Passiamo alle modalità di pagamento, qui da noi potete scegliere la modalità di pagamento con i nostri professionisti, nessuno vi vieta di fare il pagamento per contanti, oppure potete aderire alle offerte che vi propone FCA Bank, cioè la finanziaria della Fiat, sconto meno 1.500, finanziamenti che arrivano fino a 96 mesi con rate veramente bassissime, pensate arriviamo a poco più di 100 euro mensili, oppure potete sfruttare le alternative di acquisto, e cioè il noleggio a lungo termine, sia che siate possessori di partita IVA o che siate dei clienti privati. Potete sfruttare il modo nuovo di acquistare la vostra autovittura, il TTC Autofrancia con zero pensieri, e cioè ve lo spiego in due parole, concorderete con i nostri professionisti, un canone che non vi dia fastidio al budget familiare. All'interno avete servizi a 360 gradi, cioè assicurazione furto incendio, attivandalici, eventi naturali, sociopolitici, cristalli, la casco, mini casco, 5 anni di garanzia, chilometraggio illimitato, i tagliandi compresi per tutti e 5 gli anni. Non dovete neanche più pensare al cambio gomme, perché avete sia le gomme stive che le gomme invernali, cioè pagate il vostro canone mensile, e a tutto il resto ci pensiamo noi dell'Autofrancia. E soprattutto la vostra autovittura non si svaluta più, quindi come vedete zero pensieri TTC Autofrancia. Ma adesso restate con noi, ci trasferiamo nei padiglioni dell'autovittura d'occasione aziendale e chilometri zero, occhio perché ci sono delle offerte veramente da non perdere. Entrate con noi nel primo padiglione dell'autovittura d'occasione aziendale e chilometri zero, da non perdere, parliamo di Jeep Compass 1.4 Multi Air, 140 cavalli, nuova, chilometri zero, ve la proponiamo a 25.900 euro, anche altre a vostra disposizione, volendo anche turbodiesel. L'Autofrancia non è soltanto Fiat Alfa Lancia e Jeep, abbiamo anche le straniere, chiaramente nuove, chilometri zero, questa è una Peugeot 108 VT1000 Active, 68 cavalli, nuova, chilometri zero, con la radio touch da 7 pollici a 10.900 euro. 11.500 euro per questa Hyundai, i 10 login, 1000 con impianto EcoGPL, quindi se siete residenti in Piemonte avete anche l'esenzione bollo per 5 anni, 11.500 euro. Casa Toyota, abbiamo una Yaris, o meglio ne abbiamo anche altre a vostra disposizione, Toyota Yaris, nuova, chilometri zero, 5 porte a 11.800 euro. Guardate quante soluzioni vi dà Autofrancia. Vi ricordo che vi facciamo anche lo sconto all'ottamazione fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto all'ottamare, sia anche se comprate un'autovettura d'occasione aziendale o chilometri zero. Peugeot 208, 1200 Active, 82 cavalli, 11.900 euro. Volendo, finanziamento anticipo zero, una rata che fa ridere, 188 euro mensili e comprate un'autovettura nuova come una Peugeot 208, chilometri zero. Prezzo promo per questa Abarth, macchina dalle altissime emozioni, parliamo di Abarth a 165 cavalli, nuova, chilometri zero, Autofrancia ve la propone solo a 20.900 euro. Volendo potete sfruttare anche il TTC, tutto tutto compreso anche su questa autovettura, corrate che superano di poco le 300 euro mensili con dentro la casco, i tagliandi e tutto quello che state pensando. Le Panda, ne abbiamo oltre 40 a vostra disposizione. Abbiamo Panda benzina, Panda GPL e Panda turbodiesel, partono da 7.400 euro. Quindi se cercate una Panda, se non la volete comprare nuova, abbiamo anche le chilometri zero oltre 40 a vostra disposizione. Non posso non presentarvi questa Opel Astra perché è veramente un prezzo fantastico. Autofrancia questo mese ha deciso di regalarvela, pensate, regalarvela chiaramente fra virgolette, nuova, chilometri zero, 1.600 turbodiesel, 136 cavalli, a tutti gli optional che state pensando, ripeto, chilometri zero, 15.900 euro. Anche qui volendo anticipo zero, le rate superano di poco i 200 euro mensili. 500X, Cross, 1.400 multi-air, 170 cavalli, cambio automatico, clima automatico, i fari Bixeno, i cerchi da 18, è veramente la versione top di 500X con 170 cavalli, quindi prestazioni fantastiche. Ve la proponiamo a 24.900 euro. Solo 18.900 euro e salite sul marchio Jeep, un marchio veramente molto prestigioso. Renegue 2.140 cavalli, 4x4, limited, siamo al top di 500, scusate, di Jeep Renegade, 18.500 euro. Casa Ford, C-Max, 1.500 turbodiesel, 120 cavalli, titanium, quindi qui siamo veramente full optional e un aziendale, 14.900 euro. Proseguiamo velocemente perché questo novembre l'autofrancia è veramente strepitoso, le offerte non finiscono mai, coglietele perché è veramente un mese strepitoso. 500L, 1.400 turbo, 120 cavalli con impianto EcoGPL, nuova, km 0, ve la proponiamo solo a 18.900 euro al tetto panoramico, navigatore, Apple CarPlay, Android Auto, cerchi da 17, tutto quello che state pensando, solo 18.900 euro. Se cercate una 500 km 0 ne abbiamo oltre 30 a vostra disposizione, benzina, diesel e con impianto EcoGPL partiamo da 10.900 euro. Chi vi dà la 500, l'icona di casa Fiat a questi prezzi solo da noi all'autofrancia. Volendo, già detto, la Yaris nuova e km 0 che partono da 11.800 euro, le Panda km 0 che partono da 7.400 euro, oltre 40 a vostra disposizione, tipo 1.400 T-Jet, 120 cavalli, nuova km 0, ve la proponiamo, pensate, a solo 17.900 euro, veramente un prezzo fantastico. Peugeot 208, 1.200 active, 82 cavalli con impianto EcoGPL a 13.900 euro, nuova km 0. Alfa Mito, 1.400 Urban, 78 cavalli, nuova km 0, 10.900 euro, sono le ultime corrette perché è un'offerta veramente strapitosa se volete fare il finanziamento. Qui le rate superano di poco i 100 euro mensili, quindi 160 euro mensili, veramente una rata bassissima. 500 L Popstar, 1.600 turbodiesel, 105 cavalli, la versione Living, quindi la versione Wagon, ve la proponiamo a 10.900 euro. Guardate quante soluzioni avete qui da noi all'Auto Francia. Mito, 1.300 Multijet, 95 cavalli, nuova km 0, 12.900 euro. Entriamo nel secondo padiglione dell'autovittura ed occasione aziendale km 0, vi ricordo che su tutte le autovitture che troverete qui da noi, vi ricordo lo scontro d'automazione, vi ricordo tutte le modalità di pagamento che potete sfruttare, pagamento per contanti, TTC, tutto, tutto, compresa Autofrancia, con zero pensiero, finanziamenti fino a 96 mesi, con rate veramente bassissime. Ecco qui iscritto, infatti, Opel Crossland, nuova km 0, ve la proponiamo a solo 14.900 euro, volendo con rate da 230 euro mensili, quindi una rata veramente bassissima. Casa Volkswagen, Golf, 1.600 turbodiesel, 115 cavalli, sport, 5 porte, airline, quindi siamo al top della Golf, ve la proponiamo a 23.900 euro. Vi ricordo, le Panda a km 0, oltre 40 a vostra disposizione, partono da 7.500 euro, abbiamo benzina diesel e con impianto EcoGPL. Opel Moccan X, 1.400, Ecotec, 115 cavalli, nuova, km 0, 18.900 euro, volendo con finanziamento anticipo zero, rate veramente bassissime, 500 L, anche qui abbiamo diesel, benzina e con impianto EcoGPL. Questa è nuova km 0, la 1.400 Popstar, chiaramente parliamo già dell'ultima versione, 14.900 euro e a tutto quello che state pensando. Fendi Nebbia, la radio touch, avete veramente tutto. 500X, avete visto la 4x4 multi-air, 170 cavalli, abbiamo anche questa, un'altra benzina, multi-air, 140 cavalli, Popstar, 18.900 euro, veramente full optional, ma ne abbiamo tantissime a vostra disposizione, se cercate una X abbiamo veramente delle soluzioni pazzesche a vostra disposizione. Gamma tipo che parte da 9.900 euro, quindi questo mese se dovete comprare una tipo all'Auto Francia, gamma tipo che parte era 9.900 euro, un prezzo veramente fantastico. Questa è una tipo 4 porte, 1.300 multigetto, 95 cavalli, la versione Easy, nuova km 0, non state sognando, 11.900 euro, disponibile anche 5 porte e station wagon. 500X, benzina, anche questa, aziendale, 140 cavalli, 18.300 euro. 500L Living, 1.600 turbodiesel, 120 cavalli, aziendale, veramente pari al nuovo, 12.900 euro, qui le rate da 180 euro mensili, quindi volendo anticipo zero avete una rata veramente bassissima. Avete visto di là Mito, benzina e turbodiesel, questa grigio scuro metallizzato, bellissima, 1.300 multigetto, 95 cavalli, 12.900 euro, anche qui interamente finanziabile, oppure potete anche darci la macchina da rottamare o supervalutiamo il vostro usato. 500L, 1.416 valvole, 95 cavalli, 14.900 euro, ma ne abbiamo già parlato, guardate quanto è bella, tipo, 5 porte, 1.600 turbodiesel, 120 cavalli, la versione lounge, con questo metallizzato fantastico, la radio touch, ha veramente tutto, ve la proponiamo a 16.900 euro. 500L, 1.400 T-jet, 120 cavalli, lounge, col tetto panoramico, il navigatore, l'Apple CarPlay, Android Auto, cerchi da 17, ha veramente tutto, 18.900 euro, Peugeot, 208, 1.600 HDI, 75 cavalli, nuova chilometri zero, 12.900 euro, qui volendo le rate partono da 170 euro messili. Eccoci giunti in chiusura, come vedete siamo ritornati negli showroom delle autovetture nuove di gamma Fiat, siamo tornati in un contesto veramente fantastico perché qui di fianco a me c'è la nuovissima 500X, telefonateci, telefonate e prenotate i vostri test drive su tutta la gamma Fiat Alphalancia Jeep che Autofrancia vi propone in pronta consegna. Vedete anche qui alle mie spalle della nuovissima Jeep Compass, venite a scoprire e a toccare con mano le autovetture che Autofrancia vi propone. Avete visto solo alcune delle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero che Autofrancia ha messo a vostra disposizione, ve l'ho già detto in apertura sono oltre 400, quindi se non avete visto l'auto giusta in questo filmato consultate il nostro sito www.autofrancia.it o telefonateci o meglio ancora veniteci a trovare. Vi ricordo gli sconti, abbiamo lo sconto rotamazione sulle autovetture nuove, sconti pazzeschi questo mese fino a 7 mila euro di sconto. Sconto rotamazione anche sulle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero fino a 3 mila euro per la vostra vecchia auto da rotamare. Potete concordarlo con i nostri professionisti e le modalità di pagamento, fate il pagamento per contanti, fate il noleggio a lungo termine, sfruttate il modo nuovo di acquistare la vostra autovettura, il TTC Autofrancia, sperimentatelo, fatevelo spiegare dai nostri professionisti e cioè avete un canone mensile che non vi dia fastidio e non dovete pensare più a nulla, avete zero pensieri all'interno, avete servizi a 360 gradi, l'assicurazione a furto incendio, la casca, gli atti mandalici, eventi naturali, sociopolitici, cristalli, vi diamo 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, non devo neanche più pensare ai tagliandi perché li avete compresi per 5 anni, cambio gomme, gomme stive, gomme invernali, siamo adesso nel momento del cambio gomme, voi non avete nessun tipo di pensiero e la vostra auto coperta a 360 gradi dal TTC Autofrancia non si svaluta più, quindi veramente avete zero pensieri, dovete solo pensare a pagare il vostro canone mensile, quindi non mi resta che darvi l'appuntamento qui da noi all'Autofrancia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, ci siamo 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica, metteteci alla prova, quindi il posto giusto per comprare la vostra nuova autovettura è proprio qui da noi all'Autofrancia, vi aspettiamo!